Finisce una storia bellissima iniziata vent'anni fa, ci viene di chiederci come è stato possibile? No, dispiace, dispiace per non per me, dispiace per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente, questo è l'unico rammarico che ho e non certo quello di finire perché al fine il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così dispiace che l'ultima partita diciamo ufficiale sia coincisa con una non qualificazione mondiale Non è facile adesso mettere a fuoco perché è successo Forse abbiamo sottovalutato tutto l'impegno complessivamente, abbiamo avuto l'illusione che fosse facile e non lo era No, 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 quello no, non abbiamo sottovalutato niente perché chi gioca queste partite, chi le ha giocate sa cosa vuol dire affrontare queste squadre sa cosa vuol dire e sa quanto dispendioso sia fisicamente recuperare un gol a livello mentale, a livello psicologico e quindi sottovalutato non sicuramente, probabilmente non si è riusciti a esprimere il meglio ecco di quello che avremmo potuto fare Cosa c'è mancato secondo te? C'è mancato, c'è mancato l'energia e la lucidità per fare gol però alla fine loro hanno fatto una gara come quella dell'andata è stato uno spareggio che si è deciso per degli episodi loro sono andati bene, noi sono andati male però quando ti van male gli episodi è perché probabilmente hai delle colpe e quando ti van bene hai dei... vuol dire che hai meritato il calcio italiano non giocherà il mondiale, non vivremo il mondiale da protagonisti ma c'è ancora un futuro per il calcio italiano, ripartendo da questa sera non è facile ma c'è ancora futuro per questo calcio? Ma sicuramente, futuro c'è perché noi abbiamo orgoglio, abbiamo forza siamo testarvi, siamo caparvi e dopo delle brutte cadute troviamo il modo di rialzarci e quindi lascio sicuramente una nazionale di ragazzi in gamba che faranno parlare di loro compresi Gigione, Donna Rumma e in questo caso anche Mattia Perin che sono sicuro non mi faranno rimpiangere e poi voglio dare un grande abbraccio a tutti a chi mi ha sostenuto sempre al mio Chiello, al mio Barza, al mio Leo, al mio Lele a tutti quelli con i quali abbiamo condiviso più di dieci anni Eddo, faccio un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che ci hanno seguito questo non è bastato però spero che almeno a livello di esempio qualcosa si possano portare dietro Sai che l'Italia cerca un capro espiatorio e lo troverà nel CT? No, assolutamente no No, come ho detto prima, lo sport insegna a perdere in gruppo e a vincere in gruppo a condividere le gioie e i dolori, a dividersi i meriti e i demeriti e quindi il mister ha le colpe che abbiamo noi e che hanno tutti coloro che hanno fatto parte di questa spedizione Gigi, ti dico grazie a nome di tutti gli italiani